Perché questa mattina in Prefettura Milano si è tenuto il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza alla presenza del Ministro Piantidosi, che ha voluto dare alcuni dati. Innanzitutto, nonostante il resoconto delle ultime violenze in gran parte sessuali nella città, sono calati del 39% i reati nei pressi della stazione. Nonostante ciò arriveranno 400 agenti in più in città. Milano ha un problema di sicurezza, specie nelle zone della stazione centrale e nei quartieri della Movida. L'anno scorso le denunce per stupro sono state più di una al giorno e da inizio 2023 il fenomeno non sembra arretrare, anzi. Per questo, oggi il Ministro dell'Interno Matteo Piantidosi è in città per presiedere il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Tutto ciò che genera quelle rappresentazioni, ad esempio delle stazioni come luoghi in cui le persone, in particolar modo le donne, hanno paura di transitare, è un problema che ci occupa e che ci preoccupa, di cui ci dobbiamo fare carico. Intanto, il presunto autore della violenza sessuale avvenuto il 28 aprile scorso in piazza Carbonari sarebbe stato identificato e fermato dalla polizia. Si tratta di un cittadino somalo regolare che avrebbe intercettato la vittima in zona stazione, una donna in stato di fragilità che aveva accettato riparo nella tenda di fortuna dell'uomo a causa del maltempo. Ma questo è solo l'ultimo di una serie di episodi, tra cui quello avvenuto sempre a fine aprile ai danni di una turista 35enne abusata nell'ascensore della stazione da un immigrato irregolare poi arrestato. Tuttavia la questione sicurezza va oltre l'area della stazione centrale. Le violenze sono avvenute sui treni locali e nelle zone della Movida come Corso Como, episodi che hanno innescato polemiche tra il sindaco Sala e il presidente della regione Attilio Fontana, che accusa il primo cittadino di aver nascosto a lungo il problema. Un botta e risposta in cui Fontana chiede ripristino dei militari in strada e Sala, i mezzi e gli uomini promessi dal Viminale, ma non ancora arrivati.